Bruno Toscani, 61 anni, libero professionista, attualmente capogruppo di minoranza, è il primo candidato a sindaco a presentarsi ufficialmente a Villa Dossola per il voto in programma il 10 giugno. La presentazione anticipa di poco quella della sua lista, che è lista civica ma comunque appoggiata dai partiti di centrodestra. Non è infatti un caso che con lui alla presentazione ci siano i parlamentari Enrico Montani e Mirella Cristina, ma anche Massimo Ficara del Movimento Nazionale Sovranista e Luigi Songa di Fratelli d'Italia. È molto difficile, secondo me, presentare in un paese grosso come Villa una lista, anche se la nostra è una lista civica, senza quello che è la condivisione dei partiti. Ci sono i partiti che fanno delle scelte su chi appoggiare all'interno di una competizione elettorale e io penso che chiunque non condivida il percorso fatto in questi dieci anni da questa amministrazione di sinistra sia posizionato sicuramente dalla parte opposta. Tra il pubblico anche esponenti politici, amministratori o ex amministratori. Toscani annuncia motivi della sua candidatura che sono molti, partendo da quello che definisce lo stato di sbando della città, sino alle bugie di chi racconta che lui chiuderà la fabbrica o si disinteresserà della collina dello sport. Toscani rivendica però per Villa Dossola un ruolo più consono negli enti di secondo grado. Era una candidatura tra virgolette naturale dopo tanti anni di appartenenza al gruppo di minoranza? Ma insomma di naturale non c'è mai nulla. Diciamo che comunque dopo dieci anni passati all'opposizione un pochettino di esperienza si è maturata. Soprattutto ho la consapevolezza di tutte le criticità che abbiamo trovato e che ci sono all'interno di questo paese e abbiamo l'intenzione di far cambiare passo un attimino a questo paese.